BALALALALA BALALALA Ami, boh! E bocce proprio rotto, dico io! BALALALA BALALALA Benvenuti alla seconda parte dedicata ai soprannomi romaneschi Una persona, diciamo, che mostra sempre la gengiva, eh? IR GENGIVA Una persona invece che è molto pelosa, lo chiamerete IR PULOVER Anche detto, IR CAVERNA Perché proprio dà l'idea che proprio se nascondono delle creature malvagie Negli amfratto poloso C'è sta quello proprio che non parla mai, si tiene sempre lontano dai fatti degli altri IR PENOMBRA Parla, parla, sputa, sputa, mentre parla IR LAMA IR ZANZA Zanza perché proprio rompe palle come le zanzare Una ragazza, diciamo, non conosciuta non proprio per la sua raffinatezza, eh? LA CONTESSA QUELLO CHE DEVE SEMPRE FA' LA PIPÌ, SEMPRE FA' LA PIPÌ IR PROSTATA O ANCHE DETTO SEMPLICEMENTE IR VESCICA Una persona che ha, diciamo, una pancia pronunciata, ma ha proprio le gambe, proprio due stecchini E viene detto IR PASSEROTTO C'è sta quello che sette pigliate fa piagne IR CIPOLLA Una persona proprio fastidiosa, proprio IR DITO Non c'è bisogno che te lo spiego C'è quello che proprio non riesci proprio a liberartene IR CAMBIALE Ma è sta fermo, non riesci proprio a sta fermo IR CINETICO Sono proprio brutta, proprio messa male, eh? IR MIZIA Cioè viene da, ma fa rimizia E proprio c'è la forfora, la forfora da tutte le parti IR NEVE Anche detto IR FORMAGELA C'è sta quello che ti piace proprio saltare gli appuntamenti, eh? IR RANOCCHIETTO L'OBESO Ma che c'è la testa piccola IR DAMIGIANA C'è sta quella persona proprio che non te perdona gli errori E appena c'ha l'occasione te la fa pagare IR BOIA Considerato una piaga sociale IR LOCUSTA San malasembro, san malasembro, sempre incline proprio alle malattie stagionali IR VIRUS Persona graziosa e delicata proprio In senso ironico viene chiamato IR COLIBRI Oppure quello che proprio non è agile, proprio non riesce proprio ad essere svelto ROBOCOP BASSO 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 IR DUCE IR DU CENTIMETRI Uno che c'ha proprio competenze illimitate, non perde proprio l'occasione per farlo sapere IR PRIMARIO PARLA PARLA, poi tutto addormento, poi quando sta par... IR MORFINA Quello che fa proprio le scorriggette proprio abomnevoli e a tradimento, eh? IR PUZZETTA Anche detto, se proprio non riesce a trattenere l'aria IR FIANA Una persona che c'ha proprio un comportamento proprio assurdo IR SENZA SENSO PERSONA LOSCA, proprio dai trascorsi oscuri BARABBA C'è quello che allunga le mani sulle ragazze, che allunga le mani proprio su qualsiasi sesso, qualsiasi genere IR PIOVRA C'è quello che sta maneggerati proprio tutto l'anno, tutto l'anno IR PINGUINO IR PINGUINO Ma c'è sta quello che c'ha un sacco di tic nervosi, proprio una marea IR SETTE POSE Iscrivetevi al canale per non perdere un'altra puntata di... A RUMA SE DICE COSÌ